Walter Rasicci, responsabile ricerca e sviluppo anti-intrusione. Sol e Prime sono le ultime nate in casa Inim, risultato proprio della vostra ricerca e sviluppo. Sì, esatto, sì. Sol e Prime sono le ultime famiglie di centrali nate in Inim a completare un'offerta di sistemi anti-intrusione che partono da Smart Living all'inizio della storia di Inim per poi essere completate nel corso di questi anni con Prime, che è venuta fuori circa un paio di anni fa e Sol, che invece è tra noi da pochissimi giorni. Il frutto di questo lavoro, sì, parte dalle origini di Inim, che ha avuto nella ricerca e sviluppo la sua caratteristica fondante, potrei dire. All'inizio Inim era costituita da 9-10 progettisti e basta. Nel corso del tempo, oggi, il gruppo di ricerca e sviluppo di tutta Inim costituisce circa il 30% di tutto il personale, quindi una presenza pesante all'interno di un'azienda, tutto sommato alla fine manifatturiera. Noi sviluppiamo e progettiamo praticamente la totalità dei prodotti che possono essere osservati al nostro catalogo. Siamo, da questo punto di vista, un po' autarchici, nel senso che vogliamo avere il controllo di tutto quello che vendiamo, ovviamente, ma lo vogliamo avere in maniera totale. Quindi lo facciamo, lo manuteniamo noi, ne risolviamo eventuali problematiche e, soprattutto, cerchiamo di essere attenti a quelle che sono le evoluzioni che il mercato quotidianamente chiede. Quindi osserviamo, ovviamente, anche quello che fa magari la concorrenza, ma più che altro, diciamo, un po' lo sforzo del settore di ricerca e sviluppo è quello di cercare di anticiparle alcune scelte che poi, ovviamente, si ripercuotono nella progettazione di un nuovo prodotto, di un nuovo servizio, di un nuovo software, di nuove applicazioni, di nuove soluzioni meccaniche, di nuove estetiche. Insomma, ecco, questo è tutto il mondo all'interno del quale la ricerca e sviluppo Inim si muove. Facciamo esattamente tutte queste cose qui che ho appena descritto, sì. E, tra l'altro, con una forte attenzione all'installatore e anche all'utente finale per la semplicità di utilizzo. Assolutamente sì. Alla fine il nostro installatore è colui che è il nostro cliente. L'utente finale è l'utilizzatore finale dei nostri prodotti, appunto, e le indicazioni della bontà delle scelte progettuali o delle scelte anche commerciali che vengono fatte dipendono proprio dall'aver continuamente sotto controllo e avere attenzione per questi due personaggi, definiamoli così. Per gli installatori, in particolare, noi internamente abbiamo un servizio di supporto tecnico composto da sei persone, il cui lavoro è proprio quello di dare supporto per tutto il periodo lavorativo della giornata agli installatori che sono sul campo in tempo reale, cercando di offrire, per quanto possibile, soluzioni immediate a problemi che loro hanno lì, loro sono sul campo, hanno una problematica da risolvere, hanno magari il cliente lì dietro che li guarda in attesa della risoluzione del problema o del soddisfacimento di una particolare richiesta, e noi, per quanto possibile, dicevo, cerchiamo di dare questo tipo di supporto in maniera immediata. Ecco.